Musica Vedete, in questo non siamo poi molto dissimili dagli altri animali E come sei riuscito a convincerlo? Beh, segreto professionale Certo però che sto posto in mezzo al niente Signora, senta, qui vicino non c'è un meccanico, qualcuno che possa darmi una mano Ecco qua, spero che si troverà bene e che vorrà cenare con noi più tardi Al professor Brancani, il primo di una lunga schiera di clienti in lo stesso Allora, sento Eh, che c'è? Stai tranquilla, mi sto divertendo Stai tranquilla, mi sto divertendo